Siamo davanti a Palazzo Fibioni, alle 12 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste per le prossime amministrative del 12 giugno. La sorpresa è che è spuntato un altro candidato, Simona Volpe, che fa riferimento a una lista Libera Aquila. Questa è l'unica sorpresa perché per il resto la situazione che si è configurata era quella che è remersa nelle scorse settimane, quindi con sei liste a sostegno della Pezzopane, sei a sostegno del sindaco uscente per Luigi Biondi e tre a sostegno di Americo Di Benedetto. A sorpresa, nella competizione elettorale per le prossime elezioni amministrative del capoluogo domenica 12 giugno, spunta il quarto candidato sindaco, Simona Volpe, con la lista a sostegno Libera Aquila, che è stata presentata ieri sera, poco prima delle 20, un movimento che farebbe riferimento a livello nazionale a Italexit del giornalista Gianluigi Paragone. Una sorpresa, anche se nei giorni scorsi era stato annunciato un incontro per oggi a San Demetrio di questo movimento, in un altro comune, dunque, dove si sarebbero già riuniti diverse volte in questi mesi. Alle 12 di oggi, intanto, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste collegate ai candidati, presentazione che è avvenuta a Palazzo Fibioni, ma oltre alla sorpresa di questa lista indipendente, la situazione è quella che già era stata fotografata nelle settimane precedenti in città, senza nessun altro scossone. A sostegno dell'uscente Pierluigi Biondi ci sono sei liste, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, L'Aquila al centro, L'Aquila futura e Civice indipendenti per Biondi. A sostegno, invece, di Americo di Benedetto ci sono tre liste, il passo possibile con consiglieri uscenti, una di riferimento per le frazioni, L'Aquila e Frazioni al nome, e la terza azione Più Europa. A sostegno di Stefania Pezzopane, infine, sono sempre sei le liste, L'Aquila Coraggiosa, L'Aquila Nuova, PD, Demos, Movimento 5 Stelle e 99 L'Aquila. Per tutta la mattinata Palazzo Fibioni ha ospitato un viavai di candidati per la presentazione delle liste, la maggior parte, infatti, è stata presentata nel corso della mattinata odierna. Partiti e movimenti hanno sfilato a Palazzo Fibioni con le operazioni di presentazione che sono state eseguite dal segretario comunale Lucio Luzzetti. Ora le liste andranno validate e controllate, ma l'operazione sarà veloce tra oggi e domani.